buongiorno fiorellini fiorelline oggi sono partita alle 6 18 andare a camminare perché è sempre meglio mesi che ho fiori i piedi in casa 8 a me sono tantissimi capelli mamma mia non come rimangono lisci così con quella spazzola non è perché ancora c'è un po di gheratina però sono sei mesi a maggio erano 5 mesi non so quasi 7 anzi a luglio va bene comunque adesso stiamo andando a camminare al parco sempre e dopo camminare un'oretta io ne ho fatto due giri mezz'ora perché faceva troppo caldo non ci riuscivo e ho mezza respirazione io se non è un po freschetto non riesco allora oggi sono uscita prima sapete sono alle 8 alle 6 e 16 sono uscita e vabbè adesso sono andato al parco un po di minuti ci vuole poi non è che camminano veloce perché con l'ossigeno così qua sotto sembrano qui più corti e qui più lunghi boh non so forse qua sono un po più ricci e vabbè comunque mo oggi stamattina devo andà da parrocchiere a prendere l'appuntamento per me e per raghere perché faccia per di a luglio adesso vi lascio via la sigla ciao dopo stiamo andando al parco e giusto l'inverno un po più tardi io sempre a questa ora posso da perché dopo non posso da più e l'estate perché fa caldo l'inverno perché dopo c'è da fare le cose loro a casa sotto fa spesa roba così e non posso da più tardi e vabbè stiamo andando al parco ecco stavo dicendo prima che mo stamattina da prendere l'appuntamento oggi il 20 che sono registrato per i primi di luglio c'è da adesso perché stavolta vado con la chieri andiamo insieme devo prendere l'appuntamento per tutti e due perché se fa un altro giorno poi vado là per fargli la compagnia forza però meglio se ce li fanno tutti insieme e niente adesso sto parco non c'è nessuno troppo presto ieri sono venuta un po più tardi e ci stavano le persone vabbè comunque io tanto anche qua cammina fresco perché già camminando così già mi manca respiro curatevi che vengo più tardi mamma mia qua ci stanno tanti pini vabbè lì ci stanno ci vedi a rumore vabbè qui a parco c'è stato tanti pini che quelli non leggi capiti vabbè guardate non c'è nessuno io mi ero fatta mezza coda perché i capelli sono corti per le calli e mi ero fatta cosa così mezza coda sopra e mezza coda perché però uguale è che si leggono tanto perché poveriggio fa troppo caldo allora me li leggo così faccio mezza coda sopra e un'altra coda sotto però uguale è che si leggono anche perché sono corti speriamo che è duro perché d'estate è così ma d'inverno non mi interessa perché d'inverno non è che ti leghi i capelli perché fa caldo ma adesso si ieri mi sono fatta mezza coda sopra e mezza sotto ho preso due fiocchi a raghiere perché io non ce l'ho più perché l'anno scorso ci ero rasati e non mi so occupare di più anzi ho regalato a raghiere perché ho capiti corti e vabbè comunque adesso vi lascio perché sto camminando se cammino non riesco a parlare e ciao a dopo ecco adesso ho finito da camminare stiamo uscendo da sono uscita dal parco che caldo è un'ora che sto a camminare ho fatto tre giri e vabbè basta però sembra che sto iniziando a camminare un po' più veloce però devo venire presto che c'è la rientra che è un po' freschetto così perché avendo problemi per l'ormone è un casino per respirare sul tac diceva facciamo mezzo respiro ma il dottore e vabbè comunque no a tal l'anno mi devo fare il tac comunque adesso vi lascio perché a fine di questo video vado a casa faccio la doccia faccio il spruzzo per il respiro prendo la mia pasticca di sempre faccio la doccia faccio colazione e più tardi vado dal parrucchiere che oggi è martedì sì è aperto e vado a prendere l'appuntamento per me e per mia figlia raghere ci andiamo a fare belle tutte e due io vabbè ogni due mesi me la faccio fissa perché mi devo coprire i capelli bianchi e basta non è che il colore rimane questo e basta che sto a fare una prova per andare sempre al parrucchiere e fare l'allunca da lui fa la tinta sua poi non mi fa ridazione molto bello tranquillo quando invece quando andavo a fare quella parrucchiera non quella marina di capelli ma quell'altra che aveva la figlia quando mi faceva la tinta che mi faceva scura mi faceva così ridazione mi faceva un bozzo dietro a testa penso che ero allergica con la tinta io l'ho detto e la figlia ha detto il problema è tuo e vabbè invece questo qua non mi fa nessuna ridazione la tinta niente poi mi fa solo la ricrescita mi ritinge tutti invece quella lì tutte le volte che andavo mi ripaceva la tinta qua sotto una volta al mese ci andavo invece l'altra volta mi ha fatto la tinta mi ha fatto solo la ricrescita penso che mi farà solo la ricrescita perché qua sotto sono tinti poi non si scolorisce questa tinta il bello è che non si scolorisce rimane sempre intatta e non si scolorisce invece le tinte che copri ai ricozzi dopo un mese o massimo due mesi la devi passare sotto perché si scolorisce vabbè adesso vi posso lasciare perché finito questo video ciao al prossimo video mega passo ciao monde ciao ciao ciao